Il derby che non esisteva più in Serie A adesso c'è, la conferma che tra i più accesi d'Italia arriva dal tentativo nel pre-partita da parte delle due tifoserie di venire a contatto. Uno spicchio perché il resto della favorita si trasforma nella bombonera tutta italiana che torna ad ospitare 44 anni dopo in Serie A Palermo e Catania, non più il grande classico della Sicilia. Stavolta infatti non c'è in gioco solo la leadership regionale, ma addirittura la lotta al vertice. Da Melbourne a Miami, dal nord Europa al Sud America, le dimensioni del derby delle due Sicilie diventano intercontinentali con i paesà di tutto il mondo a seguire un match atteso da quasi mezzo secolo. Si scontrano il miglior attacco, il Palermo contro la miglior difesa, peraltro ancora in battuta. Guidolin cambia la difesa, fuori Biava dentro Cassani con Zaccardo centrale, ma l'Azzurro va già in difficoltà dopo due minuti su un palermitano Doc con la maglia rossa-azzurra. Corona che sgomma sulla sinistra e libera una conclusione insidiosissima che colpisce l'esterno della rete. Primo pericolo per il rosa-nero che Guidolin schiera in attacco con Bresciano e Di Michele dietro da Mauri ed è proprio il brasiliano a proiettare di testa il pallone per Tedesco che ci prova dalla distanza. Ma la conclusione del centrocampista non sorprende Pantanelli. Guidolin non troppo soddisfatto dell'avvio di gara e i cattivi pensieri del tecnico Veneto trovano fondamento al 27esimo quando un incontenibile corona va via ancora Zaccardo, lo ridicolizza e va in gol per il bomber del Catania. Secondo centro in campionato, 1-0 per il Catania la favorita. Davvero un incubo per Zaccardo il 32enne bomber catanese che con le sue falcate, le sue movenze, ricorda vagamente Ibrahimović dei tempi d'oro. E anche l'eroe dell'Olimpico Agliardi è battuto. Ma passa un solo minuto il Palermo, trova immediatamente il pareggio su una carambola pazzesca, arriva Tedesco e riesce nella girata a porta vuota. Stavolta ad esplodere sono i 35.000 palermitani presenti alla favorita. Azione molto confusa ma facile da decifrare perché gli unici giocatori a muoversi sono quelli del Palermo. Azione pazzesca perché nasce dal tocco di coscia di Caserta, la palla si stampa sul palo. Torna da Mauri che gira subito in mezzo dove ha postato il suo compagno Tedesco. Primo centro in campionato per il centrocampista Rosonera, per il Catania si tratta invece del primo gol incassato in questa stagione ma il primo tempo si arroventa anche con la Moviola dopo uno spunto di Amauri di Michele prova ad accelerare ma viene stoppato dal braccio di Sottil per l'arbitro Trefoloni, non c'è volontarietà e su questo episodio si chiude sull'1-1 il primo tempo. Ma il risultato resta in bilico soltanto 50 secondi nella ripresa perché Fabio Simplizio avanza, palla al piede Bisio non interrompe la sua corsa e così il brasiliano ci prova, ne esce un tiro non irresistibile che però si trasforma in gol. Per Pantanelli una papera clamorosa per l'ex parmigiano, primo gol in campionato. Rivediamo il rasoterra di Fabio Simplizio dalla distanza ma anche l'errore nella scelta del tempo del portiere catanese. 2-1 dunque per il Palermo che ora si affira ai suoi palleggiatori. Senza parole l'azione tutta in verticale Simplizio, Bresciano e Di Michele che fallisce il terzo centro. Da rivedere da questa inquadratura il tocco sotto di Bresciano come il controllo da prestigiatore di Di Michele ma se in attacco il Palermo si diverte e là dietro continua la serata sì di corona e quella no di Zaccardo che addirittura sviene. L'attaccante rossazzurro arriva ancora al tiro ma stavolta sul suo destro c'è Agliardi che al ventesimo è vittima di una gaffa clamorosa. Credendo che si trattasse di un retropassaggio di Zaccardo si inginocchia tra lo stupore del Barbera e lascia entrare in rete il pallone, in realtà toccato da Mascara. Ammutoliti tifosi rosa-nero, sconvolto il portiere che aveva fatto imprecare i tifosi della Lazio soltanto tre giorni fa. Ma il super derby della Sicilia regala ancora quantità industriali di emozioni anche perché il Palermo adesso pensa a divertirsi. Amauri offre la sua sponda aerea a Bresciano che entra in rotta di collisione con Stovini. Per l'arbitro Trefoloni, nessun dubbio, abbastanza evidente la carica del difensore catanese su Bresciano. Sul dischetto ovviamente c'è Capitana Corini che non sbaglia, secondo centro per il capitano dal dischetto che esulta. Esulta però davvero Capitano perché corre, va subito ad abbracciare, a rincorare Agliardi a cui rispunta finalmente il sorriso. 3-2 per il Palermo, rivediamo il penalty calciato da Corini. Cambio nel Catania, fuori Colucci, dentro lo Spinesi, si aprono gli spazi, entra in area al 35esimo Amauri, libera un diagonale e batte per la quarta volta Pantanelli. Esultanza scaramantica per Francesco Guidolin, secondo centro per Amauri in campionato. Bello il guizzo del brasiliano arrivato dal Chievo, ma il Palermo è Accademia a un certo punto. Diana appena entrato, scodella un buon pallone, di testa la girata di Barzagli per il 5-2. Sorride il centrale della Nazionale, è una bolgia la favorita, un risultato pazzesco, imprevedibile a vigilia e per come si erano messe le cose festeggia naturalmente anche Marche Bresciano tra i gioielli di questo Palermo. Nemmeno un giallista potrebbe prevedere un copione così complicato. Quarantesimo perde Guidolin Simplicio, Rosanera dunque in 10, finale thriller, secondi assolutamente da brivido. Spinesi calcia questa punizione, ma siamo intorno al novantesimo e realizza il terzo gol catanese, anche se c'è la deviazione come si vede da questo replay sulla traiettoria di Bresciano. Un derby più emozionante di questo, non potevano immaginarlo nemmeno quelli che l'hanno cominciato con le spranghe sugli spalti. Ora però parlare di Scudetto a Palermo è obbligatorio.